Ordinario di pianificazione dei sistemi di trasporto presso l'Università di Napoli, Federico II. Ecco, professore, noi profani passiamo sull'autostrada del Brennero, attraversiamo i cavalcavia e vediamo una strada. Io le chiedo, lei che cosa vede quando guarda un'infrastruttura del genere? Ma io quando guardo l'autostrada del Brennero vedo il cordone ombelicale dell'Italia con l'Europa. La vedo così. Prima si è detto che è un pezzo della rete italiana che il territorio si è fatto. Ma si è fatto guardando consapevolmente, forse non consapevolmente, con una eterogenesi dei fini, a cui la storia spesso ci rimanda, a un grande progetto europeo. Ecco, io chiederei di avviare la mia presentazione, però consentitemi innanzitutto di ringraziare gli amici della 22 per avermi invitato a una festa. Ai 60 anni di questa autostrada, 60 anni sono una data importante anche nella vita di una persona, al 60esimo compleanno, come dire, è un'occasione per fare un po' di analisi. Che cosa è successo? Cosa si è fatto? Cosa ci proponiamo di fare per quello che ci guarda il futuro? Bene, 60 anni dell'autostrada del Brennero sono 60 anni di un progetto italiano. E infatti in questa presentazione, in queste relazioni, io vorrei proprio parlare del ruolo che le autostrade hanno avuto nello sviluppo del nostro paese dal dopoguerra ad oggi e quali sono le prospettive di questo sistema nel futuro. Se possiamo partire con la prima slide. Fu la vigilia del più grave incidente mai avvenuto fino in un fine autostradale. Oddio! 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 Per costruire, certe volte bisogna aprire e distruggere. È successo così anche per la Salerno-Reggio Calabria, l'eterna incompiuta dell'autostrada italiana. Oddio! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'interno del sistema delle reti europee. È, come dico, la porta d'Italia. E l'ultima parte di questa relazione mi farò riferimento al futuro, a quello che può essere, deve essere, il futuro dell'asse del Brennero, cioè quello della intermodalità ferroviaria. Bene, le autostrade hanno accompagnato la crescita dell'Italia, la trasformazione, direi la costituzione dell'Italia. Nel 1946, alla fine della seconda guerra mondiale, c'erano solamente meno di 500 chilometri di autostrada. Le vedete qui. Dal 1946 al 1962, nei 15 anni successivi, furono realizzati 872 chilometri di autostrada. Non erano 872 chilometri qualunque, erano l'autostrada del sole. In quel momento l'Italia aveva affidato al sistema autostradale la propria crescita economica, il proprio sviluppo. Non era collegata con il resto d'Europa, la rete autostradale italiana, e c'erano intere, enormi parti del paese che erano fuori dal collegamento autostradale. Trieste, l'Adriatico, la Calabria, la Puglia, la Liguria. Bisogna affamiliare questa situazione. È la situazione della TAV oggi in Italia. Torino, Milano, Salerno. Scollegata all'Europa e interi pezzi del paese scollegati all'alta velocità. Se si fossimo fermati con la costruzione della rete autostradale agli anni Sessanta, avremmo avuto un'Italia diversa da quella che conosciamo oggi. Per fortuna non ci fermammo e nei quindici anni successivi furono costruiti 4.500 chilometri di autostrade. Si completa la maglia portante del sistema autostradale, così come ancora oggi. La Genova a Ventimiglia, la Sennone-Reggio Calabria, Palermo-Catania, Napoli-Bari, l'Adriatica, l'autostrada del Brennero. Si arriva quasi in Francia. Non c'è ancora il collegamento francese. In questa fase si fa anche qualche autostrada di troppo, è stato detto. E infatti nel 1975 addirittura per legge si blocca la possibilità di dare nuove concessioni autostradali. Lo abbiamo dimenticato un po' tutti. Ma dal 1975 all'81 in Italia per legge non era possibile affidare nuove concessioni autostradali. Ovviamente si continuò a costruire perché erano le vecchie concessioni che completavano il proprio mandato, ma non vi furono nuove concessioni autostradali. Per cui nel 2001, quindi dal 1978 al 2001, 20 anni dopo, 23 anni dopo, furono costruiti, fra virgolette, solo 700 chilometri di nuove autostrade. In particolare si arriva col Monte Bianco, ci si collega anche col versante francese, col Frejus, ci si collega col versante francese, si completa qualche autostrada siciliana, ma insomma dal 2001 si può ricominciare a costruire autostrade, a dare concessioni autostradali a seguito della legge obiettivo. Bene, la storia di questi 20 anni dal 2001 a oggi ci dimostra che però non sono le leggi che realizzano, le leggi sono condizioni necessarie, non sufficienti, non basta una legge che consente affinché si faccia. E infatti nei 20 anni, nei 17 anni dal 2001 a oggi sono state costruite pochissime nuove autostrade in Italia, solo 450 chilometri. Tanti progetti, tante proposte, qualcuna un po' azzardata, che non ha avuto le gambe per andare avanti, in realtà dal punto di vista trasportistico, territoriale, infrastrutturale, si è semplicemente avviato un pezzo della Pedemontana Lombarda, il passante di Mestre e poco altro. Negli anni 90, proprio perché il traffico continuava a crescere, non si potevano costruire nuove autostrade, c'è stata un'altra grande fase di sviluppo, che anche questa autostrada, anche la 22 ha conosciuto, cioè l'aumento della capacità delle autostrade esistenti. Terze, quarte corsie, che hanno consentito al sistema autostradale, pur con la stessa struttura di rete, di servire un traffico crescente. Ecco, questo è l'andamento dell'economia italiana in quegli anni. Vedete, l'ho diviso in tre periodi. Un primo trentennio di boom economico, un secondo trentennio degli anni 80 e 90, all'inizio del 2000, e gli ultimi dieci anni di una profonda, strisciante crisi economica che non ci abbandona ancora. Vedete, i tassi di crescita del PIL sono molto diversi in questi tre periodi. Nel primo trentennio l'Italia cresceva al 6,2% all'anno, per trent'anni, tassi cinesi. Nel secondo trentennio l'economia italiana ha rallentato la crescita, ma continuava a crescere, ha un tasso medio vicino al 2%. Nell'ultimi dieci anni l'economia italiana è arretrata dello 0,3%. Quindi non siamo ancora tornati al livello pre-crisi, come vedremo. Ma in questi anni, in questi 70 anni, dal dopoguerra a oggi, l'economia italiana si è anche molto trasformata. Vedete, in questo diagramma ci sono anche l'andamento dell'import e dell'export, che sono il grado ovviamente di internazionalizzazione dell'economia. Un grado basso, all'inizio, che ha addirittura una flessione negli anni 80-90. Quindi negli anni 80 l'economia italiana diventa meno internazionale di quanto era poco prima, ma dagli anni 90, diciamolo, dall'avvio dell'Unione Europea, l'economia, la internazionalizzazione dell'economia italiana è cresciuta significativamente. E guardate, poi lo riprenderemo fra un attimo, dalla crisi a oggi è cresciuta nonostante che il PIL sia sceso. E l'export è cresciuto molto più dell'import. E' questo quello che ci ha consentito di non sprofondare durante gli anni della crisi e che ci sta tenendo ancora a galla, anche se i dati degli ultimi giorni, delle ultime ore addirittura, fanno, da questo punto di vista, temere qualcosa per il nostro futuro. Quindi ormai un 30% del PIL è dato dall'export. Quindi un terzo della ricchezza prodotta dal Paese è prodotta per l'export. Bene, durante questi anni ovviamente è cresciuta anche la motorizzazione, il numero di autovetture, il numero di camion che camminano sulla strada. Ed è cresciuto con dei tassi di crescita superiori a quelli del prodotto interno lordo. Cioè la motorizzazione in Italia è cresciuta più dell'economia. 15% in media nei primi 30 anni, contro, vi ricordate, il 6% in media dell'economia. Il 2,7 contro l'1,8 dell'economia. E anche nell'ultimo decennio, nonostante l'economia sia andata indietro, la motorizzazione è andata ancora avanti. Soprattutto per i mezzi pesanti. Oggi in Italia circolano circa 39 milioni di automobili e 4 milioni e 900 mila camion. 40 milioni su 60 milioni di italiani fanno 62 auto ogni 100 persone. Siamo il Paese europeo con la più alta dotazione di automobili, ma di gran lunga. La Germania ce n'è a 56, la Francia a 45 auto ogni 100 abitanti. Quindi siamo il Paese che ha affidato più di tutti in Europa nel bene e secondo me anche nel male all'automobile e all'autotrasporto il ruolo di connettere se stesso e di consentire all'economia di crescere. Bene, se confrontiamo l'andamento del PIL all'andamento della rete autostradale italiana vediamo quel fenomeno che vi ho raccontato prima con le slide precedenti e cioè una fase di avvio ritardato rispetto alla ripresa economica quindi nel dopoguerra parte prima l'economia e poi le autostrade negli anni 60 partono le autostrade e in quei 15 anni fra il 60 e il 75 e il 78 si realizza gran parte 5 mila chilometri di rete autostradale e dopo si cresce molto molto lentamente. La simmetria è interrotta, l'ho citato prima in questi dieci anni è cambiata la struttura dell'economia italiana vedete se prendiamo 2006-2018 il PIL è ancora al 97% cioè non siamo ancora tornati col PIL come eravamo nel 2006 ma l'import è aumentato del 10% e l'export addirittura del 20% quindi in questa crisi si è scollegata all'andamento dell'economia all'andamento dell'import e dell'export quindi esportiamo ed importiamo più di quello che in termini di crescita più di quello che cresce l'economia italiana e da dove importiamo ed esportiamo? Bene, questa è la mappa del mondo rappresentati i paesi da dove arriva la merce in Italia ogni anno in Italia arrivano 318 milioni di tonnellate di merce 318 per un valore di 400 miliardi di euro avete visto il PIL italiano è circa 1600 miliardi di euro 1700 miliardi di euro bene, questa merce arriva da tutto il mondo vedete dalla Cina di cui tanto parliamo solo l'1,9% nei 2.000 chilometri intorno all'Italia, quindi Europa e Nord Africa arriva il 47% della merce molto importante il mare, il 57% poco importante per l'import la terra, la ferrovia e il treno che vanno al 19 e al 13% vediamo da dove importiamo, dove esportiamo invece dove vanno i nostri prodotti vedete, noi importiamo 300 milioni di tonnellate e ne esportiamo 133 siamo un paese di trasformazione importiamo tanto peso esportiamo molto meno, la metà del peso ma vale di più vale 449 miliardi di euro ed esportiamo il 70% il 73% del nostro export è verso i paesi che ci circondano ed è importantissimo quel 60% verso i paesi dell'Unione Europea quindi il 60% del nostro export è l'export come abbiamo detto è la trasformazione economica che ci ha consentito quella timida ripresa che c'è stata dagli anni 14 agli anni 18 al 2018, cioè all'anno scorso purtroppo quest'anno le cose stanno andando molto peggio vedete, verso la Cina esportiamo il 2% ancora contro il 60% dell'Europa questi sono i numeri cresce molto l'importanza della strada il 40% e anche della ferrovia è ovvio, se esportiamo prevalentemente vicino a noi strada e ferrovia, cioè il trasporto terrestre diventa fondamentale e qui veniamo alle cose che dicevamo prima vedete, questa è la bilancia dell'import-export all'inizio della crisi importavamo merce per 40 miliardi di valore in più rispetto alla merce che esportavamo quindi qui non ci sono i servizi, solo beni quindi importavamo automobili, eccetera, eccetera che valevano 40 miliardi in più dei nostri prodotti verso l'estero oggi siamo, quindi da meno 20 leggo bene, meno 20, sì siamo a più 47 o meglio, eravamo, li mancano gli anni nel 2018 a più 47 quindi abbiamo recuperato da meno 20 a più 47 significa 70 miliardi di euro all'anno di salto 70 miliardi sono molte finanziarie come sapete quindi in questi anni l'economia italiana è passata da una bilancia negativa a una bilancia fortemente positiva cioè si è internazionalizzato in questo contesto cioè in un'economia che diventa più internazionale importa ed esporta di più ed esporta più di quanto importa il Brennero gioca un ruolo strategico per tutto il paese io l'ho chiamata la porta d'Italia vedete questa è una immagine dell'Italia come compariva in un Atlante pubblicato a Milano nel 1852 quando Milano era ancora una città dell'impero austro-ungarico così è l'Italia vista dagli imperi centrali un magnifico molo proteso del Mediterraneo e separato dal resto d'Europa da una barriera insormontabile che è rappresentata dalle Alpi bene questa invece è l'Italia come la vede l'Europa adesso una parte fondamentale di una rete si chiama TEN l'avrete letta su tutti i giornali Trans European Network è la rete delle infrastrutture strategiche per fare dell'Europa un unico spazio economico e sociale così come le autostrade hanno fatto dell'Italia un unico spazio economico e sociale l'Europa ha definito dei corridoi in una rete l'importante è che si tratti di una rete e i diversi corridoi si intersegono e guardate il Brennero che è un pezzo del corridoio ScanMed cioè corridoio che parte nella Scandinavia e arriva giù a Palermo e prosegue addirittura fino a Malta questo corridoio nord-sud centrale dell'Europa si interseca qui con il corridoio mediterraneo quello che dal Portogallo arriva fino ai paesi dell'est fino alla Russia ai confini dell'Unione Europea e al corridoio baltico-adriatico e al corridoio che una volta si chiamava Rotterdam-Genova quindi qui in Italia si incrociano ben quattro di questi strategici corridoi europei e il Brennero è l'asse che ne interseca tre è veramente un asse dal punto di vista strategico delle reti europee fondamentale vedete è tutto il corridoio mediterraneo il corridoio Reno-Alpi il corridoio baltico-adriatico e attraverso i porti di Venezia Ancona, Ravenna da una parte la Spezia e Livorno all'altra questi corridoi poi si connettono al resto del mondo perché da quei porti partono e arrivano le navi portacontenitori che consentono quella geografia di scambi economici che abbiamo visto in precedenza bene ovviamente questi corridoi proseguono al sud ed è chiaro già da questa mappa perché il Brennero è un asse privilegiato rispetto a quelli che vengono dalla Svizzera dal Sempione, dal Gottardo o del Frejus è privilegiato perché quell'asse all'altezza di Bologna si collega ai due assi ai tre assi longitudinali italiani che sono il Tirrenico l'asse Appenninico e l'asse Adriatico quindi connette la parte nord, il centro il nord Europa l'Europa dell'est con il resto dell'Italia tutta per questo è la porta d'Italia come ho detto e come cercherò di dimostrare ed è facile dimostrarlo questi sono i numeri sono le tonnellate di merce che ogni anno attraversano tutti i valichi alpini del nostro paese vedete il Brennero 35,6 milioni di tonnellate all'anno su strada e 13,8 milioni di tonnellate all'anno su ferrovia è di gran lunga il primo il più trafficato dei collegamenti interalpini del nostro paese prima si diceva le comunità locali si sono volute l'autostrada ma le comunità locali volendosi l'autostrada hanno consentito all'Italia di connettersi all'Europa vedete fra strada e ferrovia l'asse del Brennero fa 50 milioni di tonnellate di merce all'anno cioè il 10% di tutto l'import e l'export italiano passa sul Brennero è l'azionista di maggioranza neanche il porto di Genova nessun'altra infrastruttura italiana serve tante merci per l'import e per l'export quanto l'asse del Brennero strada e ferrovia però guardate una cosa 75 strada 13 ferrovia molto squilibrato 70% strada 30% ferrovia e così in tutto il resto delle Alpi? No ci sono tre scenari completamente diversi sui valichi svizzeri grazie agli investimenti enormi che ha fatto la Svizzera su tre tunnel in particolare Lechberg Gottardo e Monte Ceneri che si sta per completare gli svizzeri hanno realizzato questi tunnel ferroviari giganteschi 20 miliardi di euro approvati con il referendum i svizzeri il referendum che approva un'opera approva anche la tassazione per quell'opera quindi gli svizzeri si sono hanno deciso referendariamente a larga maggioranza di costruirsi dei tunnel ferroviari e di pagare la costruzione di quei tunnel ferroviari facile dire sì con i soldi degli altri bene questa scelta fa in modo che il traffico fra Italia e Svizzera sia al 70% sulla ferrovia e al 30% sulla strada con l'Austria il Brenner abbiamo detto 70 strada 30 ferrovia in Francia beh oggi è di moda il fregiusto Torino-Lione in Francia non c'è traffico ferroviario ma perché non c'è ferrovia quindi abbiamo il peggior performance con il 7,7% in ferrovia e il 92% strada il Brennero come dicevo è diverso dagli altri valichi non solo perché attraporta più merce come vedremo anche più persone ma perché le trasporta su tutta l'Italia e verso tutta l'Europa questo è l'andamento delle origini e destinazioni sul Brennero e sul Sempione è un esempio come dire che ci fa chiaramente capire come il il Gottardo serva prevalentemente il nord nord ovest e la pianura padana poco il resto del paese e dal punto di vista di connessione con l'Europa vada prevalentemente verso il nord ovest guardate il Brennero non solo è più grande perché stiamo parlando di autostrade ma serve un ventaglio molto più aperto di paesi europei soprattutto verso l'est e soprattutto serve tutta l'Italia questo è il traffico ferroviario in quel caso sono più grosse le linee della Svizzera perché come abbiamo detto verso la Svizzera il traffico ferroviario è prevalente ma la struttura dei collegamenti è la stessa che vedevamo un attimo prima questo andamento questa crescita del Brennero questo ruolo sempre crescente del Brennero sui collegamenti lo vediamo anche confrontando l'andamento del traffico merci dell'A22 con quello di tutte le autostrade italiane quindi abbiamo detto le autostrade italiane hanno recuperato i livelli del 2006 nonostante la crisi il Brennero li ha superati del 15% quindi il Brennero negli ultimi anni proprio per quella crescita dell'export più forte che si è avuto in questi anni rispetto al passato è cresciuto nel traffico di più delle altre autostrade italiane ma attraverso il Brennero è stato detto non passano solo i camion nelle merci o i treni merci passano tante persone tanti viaggiatori vedete nel 2017 al ministero fu approvato un piano straordinario della mobilità turistica perché ci si rendeva conto che il turismo è un'altra di quelle forme di internazionalizzazione dell'economia italiana che ci sta dando una mano come paese e vedete fra le porte d'Italia c'è il valico del Brennero sia stradale che ferroviario guardate su questo diagramma l'andamento del turismo rispetto al PIL negli anni della crisi come abbiamo visto il PIL è ancora al di sotto di quello del 2006 il prodotto del turismo è aumentato del 31% quindi meno 3 per il PIL più 31 per il turismo ma questo 31 è fatto di più 20 per il turismo nazionale e del più 45 per il turismo internazionale lo dico in un altro modo in questi 10 anni il turismo internazionale in Italia è aumentato del 45% 10 anni 45% e da dove passa questo turismo internazionale passa come abbiamo detto molto dal Brennero questo è un diagramma che fa vedere per le ferrovie e per le autostrade quindi per voi per l'A22 il traffico viaggiatori dove va in Italia guardate il Brennero serve sì ovviamente innanzitutto le province che attraversa avete parlato di turismo avete parlato di valorizzazione di questa splendida terra ma serve tutta l'Italia fino alla Puglia la Campania la Calabria è veramente la porta d'Italia il Brennero fra tutti i valichi alpini e quello che ha una vocazione più nazionale altro che un asse voluto dal territorio per sé e quindi anche per le automobili confrontando i dati di crescita del Brennero dell'A22 con i dati medi delle autostrade italiane vediamo di nuovo questo fenomeno il Brennero l'A22 cresce di più il traffico delle automobili cresce di più del traffico medio nel resto delle autostrade italiane bene tutto bene allora no non lo possiamo dire non lo possiamo dire soprattutto perché l'asse del Brennero oggi è un asse saturo è un asse saturo dal punto di vista fisiologico strutturale i colleghi ingegneri e ce ne sono tanti di grande qualità che lavorano per la 22 per tutta questa regione queste province sanno bene che siamo ai limiti della capacità funzionale e siamo sicuramente ai limiti della capacità ambientale tanto più traffico di questo non si può far transitare sul Brennero le strade poi per uscire da questa da questa situazione come vedremo sono due ma insomma secondo gli studi dell'Unione Europea già i due milioni e quattro due milioni e trecentosessantamila camion che passano ogni anno sulla sezione terminale della 22 quindi al confine fra Italia e Svizzera sono molto vicini sono l'ottanta per cento del numero massimo di 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 che possono attraversare il Brennero che per l'Unione Europea è tre milioni quindi un'asse importante fondamentale per lo sviluppo economico del paese che è al limite della sua capacità funzionale e ambientale quali sono le vie per andare avanti beh innanzitutto consentitemi di dire che questa prossimità alla capacità ambientale e funzionale è nota è ovvia è quella che crea le tante difficoltà che avete che abbiamo come paese i rapporti difficili con l'Austria le continue polemiche che ci sono sulla limitazione dei tir quindi non può essere il futuro del nostro paese non può essere affidato solo alla funzione che svolge il Brennero oggi l'autostrada del Brennero e la ferrovia del Brennero oggi c'è bisogno di fare delle cose le strade le vie sono due una di cui non parlerò ne parlerà il collega Ratti nella sua relazione cioè di migliorare tecnologicamente il sistema di trasporto autostradale quindi ridurre gli impatti ambientali e al tempo stesso aumentare la capacità delle infrastrutture così come come sono consentitemi solo di fare il cenno alla Smart Road che due anni fa è stata introdotta come una delle opzioni strategiche per lo sviluppo del sistema di trasporto autostradale italiano dal precedente governo ma l'altra e direi principale via di uscita e far crescere come prevede l'Europa la ferrovia e qui parliamo del tunnel di base del Brennero BBT bene questo è un tunnel gigantesco un tunnel di 52 chilometri è quasi lungo quanto il il Gottardo quindi è una di quelle mega opere che rimarranno nella storia è un tunnel che consente alla ferrovia di aumentare da le 70 ai 204 treni merci ma non sono solo più treni merci che ci possono passare vedete è da 68 a 92 treni viaggiatori sono treni merci più lunghi sono treni merci di 750 metri sono treni merci che consentono l'autostrada viaggiante che consentono ai semini morchi di andare su questi treni quindi più lunghi e più alti quasi in pianura quindi è come se quella barriera delle Alpi che abbiamo visto in quella in quella rappresentazione di quell'Atlante dell'850 non ci fosse più una grande scelta strategica equivalente a quella di realizzare l'autostrada questo tunnel di base del Brennero ovviamente consente non solamente alle merci ai treni merci di passare di utilizzare l'asse ferroviario ma anche ai treni viaggiatori qual è il disegno per l'Italia l'equivalente di quel disegno autostradale degli anni 60 l'Italia ha due chiari progetti avrebbe ha spero avrà due principali progetti il primo è quello del treno merci europeo l'abbiamo detto un treno lungo un treno alto un treno pesante che da tutti i valichi quindi Frecius Sempione Gottardo Brennero Tarviso e Villopiscina raggiunge i porti da Trieste fino a Taranto e da Genova fino a Gioia Tauro con un collegamento ferroviario che connette tutti i grandi interporti della pianura padana da Orbassano fino a Padova questo è il progetto del treno merci europeo è un progetto che è già scolpito nel contratto di programma di RFI si sta realizzando e per il 26 27 quindi fra 6-7 anni sarà possibile raggiungere dal Brennero il porto di Gioia Tauro lungo il Tirreno e lungo l'Adriatico con treni merci lunghi 750 metri e alti 4 metri treni europei questo per le merci per la volevo solamente fare torno un secondo dietro se mi segue ecco vedete questo progetto ovviamente richiede che Frecius richiede che Sempione e Gottardo e che Brennero che sono i tre tunnel ferroviari siano adeguati alle caratteristiche del treno che abbiamo visto tenendo presente che il Frecius è stato realizzato nel 1871 e il Brennero è stato realizzato nel 1867 quindi parliamo di tunnel che hanno 150 anni di vita e che si dovrebbero si stanno ricostruendo perché attraverso quei tunnel come dicevamo passerà il collegamento delle merci italiane verso lo spazio unico europeo ma la scelta dell'Europa è che la ferrovia abbia anche un ruolo di alta velocità le città europee dovranno essere raggiungibili l'una dall'altra in 5 6 ore di viaggio questo significa che in Italia si deve completare quella rete di alta velocità che vedete oggi va da Torino a Napoli a Salerno il progetto è che si porti questa rete a tutto il paese così come si sono portate a tutto il paese le autostrade e non ci si è fermati all'autostrada del sole Milano-Napoli e quindi l'alta velocità deve completare ovviamente la Torino-Venezia ma deve andare attraverso il tunnel di base del Brennero in Austria e in Germania deve andare attraverso la Torino-Lione a Lioni-Parigi e così via questo è per darvi una stima dei tempi a tunnel di base del Brennero fatte da Verona per andare a Monaco ci vorranno 4 ore e 20 da Trento 3 ore e 40 da Bolzano 3 ore quando oggi ci vuole da Roma a Milano con i treni non stop bene concludo l'ho presa un po' lunga ma concludo dicendo a che punto siamo di questo progetto a che punto siamo di queste reti transeuropee che arrivano in Italia e che fanno della ferrovia merci e viaggiatori le nuove autostrade del 2000 siamo a un punto in cui sono tanti interventi in corso sulla rete ferroviaria sulla rete portuale perché è evidente da quello che abbiamo detto che se i porti e gli interporti non sono collegati alla ferrovia il progetto delle reti TEN non funziona e quindi in questo momento in Italia sono per fortuna in corso parecchi lavori quello della tratta di valico della galleria fortezza portagardena lo conoscete benissimo è qui vicino ma ci sono lavori già di raccordo della ferrovia della rete di RFI con Quadrante Europa nuovi smistamenti a Milano e soprattutto ci sono i lavori sulla velocizzazione e sulla trasformazione dell'Adriatica in un sistema a standard merce europeo molti lavori sui porti Venezia Ravenna Ancona Livorno La Spezia stanno tutti investendo per approfondire i fondali e dotarsi di collegamenti ferroviari a standard europei bene ma ce ne sono molti altri che sono altrettanto importanti anzi direi senza i quali il disegno non si completa e che sono invece una condizione di stand by cioè in attesa di attivazione fra questi in primis il completamento della linea di alta velocità alta capacità da Brescia fino a Padova per avere l'asse Torino Venezia completamente definito e che consentirà quindi alle merci e ai viaggiatori che arrivano dal Brennero di distribuirsi sulla asse principale est-ovest del nostro paese c'è il raccordo completo della ferrovia con il quadrante Europa l'interporto quadrante Europa di Verona e a mio avviso c'è bisogno di altra intermodalità in Veneto c'è soprattutto il completamento della tratta di aduzione al Brennero quella che passa proprio per Bolzano per Trento con le varianti sono opere importanti in parte finanziate non ancora avviate e ci sono ancora altri lavori altrettanto importanti sui porti che devono vedere l'avvio questi avvi non ci sono state per varie ragioni anche io non voglio fare polemica non è questo il momento però facciamo due conti i lavori che sono oggi in corso in fase di realizzazione con i cantieri aperti che riguardano il complesso delle reti transeuropee collegate all'asse del Brennero valgono circa 8 miliardi e mezzo di euro di questi 7 e 8 sulle ferrovie e 700 milioni di euro sui porti i lavori necessari solo per la parte ferroviaria a completare la rete tentì e di alta velocità sono 8 miliardi e 2 quindi siamo 16 miliardi di euro di lavori necessari per dare all'asse del Brennero la sua piena funzionalità in termini ferroviari 8 di questi 16 miliardi sono in realizzazione e altri 8 sono finanziati ma non sono stati ancora avviati quindi veramente una sfida importante per il nostro paese io concludo facendo di nuovo gli auguri alla 22 e l'agurio che mi sento di fare è che l'asse del Brennero possa rappresentare per il paese direi per l'Europa la stessa cosa che l'A22 ha rappresentato per il paese e per l'Europa quindi un A22 che cresce un A22 che continua a svolgere come ho detto un ruolo fondamentale ma un A22 che possa essere affiancata e in parte sostituita dalle reti transeuropee sul ferro grazie a tutti e buona giornata grazie